E' il vulcano Wakari ripreso dai turisti pochi minuti dopo la terribile eruzione che ha provocato almeno 5 morti tra altri turisti che in quel momento si trovavano sull'ordo del cratere per una visita guidata e diversi feriti. Per i dispersi invece una decina si nutrono poche speranze. Sulla White Island infatti non ci sono più segni di vita e quanto ritiene la polizia neozelandese che aggiunge chi poteva essere recuperato ancora in vita è già stato tratto in salvo spiegando di non credere dopo alcuni voli di ricognizione che ci siano altri sopravvissuti. La Premier Ardern giunta sul luogo e l'autorità della Nuova Zelanda che si estende sulla cosiddetta cintura di fuoco, la zona del pianeta più attiva dal punto di vista sismico e vulcanologico, stanno lavorando per stabilire il bilancio esatto dell'eruzione. Oltre le 5 vittime accertate, 23 le persone tratte in salvo, 18 i feriti soccorsi e 10 i dispersi, anche se ancora incerto il numero di chi si trovava sull'isola al momento del disastro. Nelle prossime ore, annunciato la polizia, una nave militare si avvicinerà e invierà droni e attrezzature di osservazione per ulteriori valutazioni.